buongiorno oggi vi presentiamo un introvabile è lei è la volkswagen polo è un 1000 benzina 75 cavalli e come dice il cartello è anche adatta per i neopatentati guardate come è tenuta è un allestimento edition argento metallizzato vi invitiamo previo contatto telefonico a venire visionare provarla perché la vettura è veramente in una condizione eccellente il sedile posteriore abbattibile il bagagliaio molto ampio tipica caratteristica di questa vettura tedesca ruota di scorta in questa piccola tedesca tre persone comode sui sedili posteriori notate anche lo spazio per le gambe molto belli pannelli porta e l'interno a voi guardate come sono tenuti i sedili plancia molto tedesca molto di pollo molto di qualità vetri elettrici anteriori e posteriori specchietti regolabili e tre camini specchietti regolabili e sbrinabili sedile di guida regolabile in altezza i chilometri poco più di 60.000 l'autoradio con lettore sd card usb e viva voce bluetooth sistema start and stop escludibile climatizzatore vi ricordiamo che anche questa vettura rientra nella nostra promozione tutta tua con smile fin con anticipo 0 contattateci perché la vettura ripetiamo è un introvabile specialmente tenuta in queste condizioni è un anno 2017 unico proprietario è un anno 2017 unico proprietario